Buongiorno Crotone, siamo sul lungomare di Crotone per l'ordinanza di divieto balneazione da parte del sindaco della città. Chiaramente c'è gente a mare, quindi molto probabilmente questa ordinanza è stata già eliminata, ma noi per poter avere chiarezza e capire qual è la situazione andiamo dal sindaco e domandiamo se si può venire al mare, se si può stare sulla spiaggia, se si può fare il bagno. Per quanto riguarda la balneazione, lei ieri ha fatto un'ordinanza di divieto di balneazione, è finita? Guardi, ufficialmente ancora no, il divieto lo stiamo rivedendo parzialmente perché le condizioni di normalità si sono state ristabilite solo in una parte. Purtroppo alcuni giorni fa c'è stato uno sversamento fognario e dopo 15 minuti che siamo intervenuti l'abbiamo risolto. Lì insieme alle pompe abbiamo trovato di tutto, bottiglie di plastica, cassette di polisterolo e quindi anche questi comportamenti di abbandono, di rifiuti, poi provocano questi problemi.